L'aggiunta poi di queste essenze a degli infusi o a delle tisane permette di avere una preparazione decisamente comoda per il loro utilizzo e la loro assunzione, andando poi ad amplificare quella che è l'attività di piante officinali notoriamente note per la loro attività, come possono essere una camomilla o una passiflora ad attività ansiolitica, potenziando anche l'azione proprio dei fiori di bacca spesta.